Nel 2017 sono stati 101 gli incidenti avvenuti sulla rete ferroviaria nazionale e su quelle regionali, con 93 vittime a fronte delle 124 del 2016. Sono i numeri del rapporto annuale presentato a Firenze nella sede della Regione Toscana dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che ha annullato le celebrazioni previste per il decennale in segno di rispetto per le vittime dello scontro tra un treno e un tir nel Torinese, che ha causato due morti e 23 feriti. Tra i dati più preoccupanti, quello degli investimenti di pedoni, la principale causa di morte sui binari, molti in Toscana. I numeri che presentiamo oggi sono in totale tendenza al miglioramento, con l'eccezione di un sottonumero, chiamiamolo così, che è quello degli incidenti legati ai comportamenti umani degli utenti. Anche per scoraggiare questi comportamenti, l'Agenzia nel 2018 intende allineare i livelli di sicurezza su tutto il sistema ferroviario e migliorare i processi di manutenzione. La Toscana, da questo punto di vista, è in prima linea. Come Regione noi lo stiamo facendo nella nostra ferrovia regionale, l'unica che abbiamo, che è la Sinalunga Rezzostia, dove abbiamo una programmazione di 20 milioni di interventi per l'installazione dei sistemi di sicurezza che sono più avanzati. In generale, in Italia i dati sono in linea con i maggiori paesi europei e sotto la media dell'Unione Europea. Grazie. 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 Grazie.